buongiorno a tutti e bentrovati a questo video tutorial che riguarda la compilazione delle domande per le gradatorie provinciali ed istituto di supplenza anno scolastici 24 25 25 26 andando ed entrando nella pagina del ministero dell'istruzione del merito e loggandosi attraverso lo speed si può entrare nella pagina riferita alle gradatorie provinciali ed istituto alla compilazione della domanda il primo passo che deve essere fatto per compilare la domanda e l'inserimento della domanda sistema inizialmente la domanda come vedete qua in alto a destra e non inserita se per inserirla bisogna scendere col tasto del scorrimento della banda laterale in basso a leggendo queste note di informativa dei dati personali e dire di aver letto questa informativa che a tutela appunto dei dati personali dopo aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali il l'aspirante alla l'inserimento nelle gps per il biennio 24 26 può cliccare sul tasto accedi e passare alla pagina successiva la pagina successiva è riferita alla scelta della provincia alla quale inoltrare la domanda ricordiamo che in questo aggiornamento è possibile anche fare un trasferimento di provincia dunque la selezione per la provincia è consentita a tutti coloro che si vogliono inserire in gps sia se lo stanno facendo per la prima volta sia se invece ritengono di spostare il loro aggiornamento da una provincia a un'altra d'italia per cui chi era già inserito nel biennio precedente cioè quello 22 24 può tranquillamente cambiare provincia facendo clic sulla provincia scegliendo una provincia tra le tutte le province che si possono scorrere come vedete si può inserire una provincia notate che nella lettera b non c'è la provincia di bolzano e scendendo mentre salendo troverete che per esempio manca nella a la provincia di aosta scendendo e continuando a scendere ci sono tutte le altre province italiane e notiamo che alla lettera t ma anche alla provincia di trento perché sono province di autonome per cui c'è un bando a parte noi scegliamo ad esempio la provincia di reggio calabria scelta la provincia di reggio calabria si può fare avanti per dare il primo inserimento all'istanza in una prima fase avendo fatto avanti si entra nella pagina dove ci sono tutti i dati personali dell'aspirante facendo ancora avanti la domanda risulta già inserita e il modello di presentazione della domanda lo vedete è fatta di questi moduli vediamo che abbiamo il modulo scelta delle gradatori di interesse di fascia e titoli di accesso che è asteriscato ed è una sezione come vedete obbligatoria l'asterisco significa sezione obbligatoria e quindi va compilata obbligatoriamente facendo da questo tasto accedi poi ci sono i titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso che la sezione b i titoli per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria i titoli di servizio i titoli di riserva i titoli di preferenza e poi abbiamo un'altra sezione obbligatoria che sono le altre dichiarazioni poi abbiamo la scelta delle sedi di delle gradatori di istituto e poi gli allegati ecco questa è un video tutorial per vedere proprio come si inserisce la domanda immediatamente faremo altri tutorial per specificare e come si compilano le singole sezioni vi ringraziamo seguiteci ancora nei nostri canali social facebook youtube nel nostro sito www.tecna scuola.it perché sulle gps si apre 21 giorni per poter presentare la domanda e noi vi informeremo passo dopo passo arrivederci